Il Torino a Verona contro il Chievo, al 46esimo cross dalla sinistra di Sommese per Foglia che in corsa non lascia scampo a Borghetto. Nella ripresa al 29esimo Asta scatta sul filo del fuorigioco e viene atterrato in aria dal portiere del Chievo. Rigore che Ferrante calcia debolmente e Borghetto riesce così a bloccare. Due minuti più tardi però l'attaccante Granata si fa perdonare con questo bel gol di sinistro che chiude l'incontro sul 2-0.